Trame di memoria per rivisitare il mito e riscoprire la memoria coinvolgendo la terza età al Museo Griffo. Sì, è un progetto che focalizza una pratica che è sempre più desueta, che è quella della trasmissione orale della memoria, delle conoscenze da una generazione all'altra. Abbiamo voluto realizzare un focus sperimentale che può essere ripetuto negli anni a venire e che ha come centro appunto le modalità di trasmissione delle conoscenze riprendendo tecniche e metodiche che sembrano un po' neglette nell'età contemporanea. Quindi a partire dai luoghi che di per sé raccontano, sono testimoni di memorie storiche, farlo attraverso la lingua viva delle persone che si confrontano e operano uno scambio generazionale nel modo più tradizionale ma forse più efficace possibile.